A bel passo non accenna a diminuire il fenomeno del randagismo. Un problema non nuovo per il comune etneo, che ancora, dopo diverso tempo, non ha avuto una soluzione definitiva. Sono numerosi, infatti, i cani randaggi che affollano le vie del paese, sia in centro che in periferia. A preoccupare i cittadini e i commercianti è la presenza di branchi, che si aggirano per i vari quartieri della cittadina, sia nelle ore centrali della giornata che nelle ore notturne. Necessario a questo punto un intervento, non solo tampone, per affrontare la questione in atto, ma anche che possa dare una svolta decisiva. La situazione non è preoccupante ed è sicuramente sotto controllo, ma non possiamo continuare a far finta che il problema non esista. È quello che dichiara Giusy Cavallaro, presidente dell'associazione Una mano per quattro zampe, contattata dalla nostra redazione. Siamo riusciti nel corso degli anni a sterilizzare quasi tutte le cagne che sono presenti nel lucro urbano di Belpasso. Il territorio del nostro paese però è molto vasto e a causa di questioni che possiamo definire organizzative non siamo riusciti a proseguire l'opera anche nel circondario. Noi volontari però non possiamo fare tutto da soli, continua la presidente. L'ambulatorio di Belpasso è comunale e i veterinari sono inviati dall'ASP, ma siamo noi che portiamo lì gli animali e la nostra associazione non riceve nessun finanziamento, neanche dalle istituzioni locali. A mio avviso, conclude la presidente, sarebbe utile mettere in campo delle forze comunali per eseguire dei controlli, non solo tra i cani randaggi ma anche tra quelli privati. Il controllo del territorio e l'individuazione degli esemplari da tenere sotto controllo e da seguire è sicuramente il primo passo da compiere per combattere il fenomeno e sono certa che i risultati potrebbero arrivare già nel giro di qualche mese. Il problema del randaggismo non so come si deve risolvere, l'amministrazione può fare o non può fare, non lo so se dipende dall'amministrazione, se dipende un po' di fattori particolari, complessivi, però è un grande problema perché naturalmente ci sono bambini, c'è gente che ha paura anche dell'ombra del cane, anche se non farebbe nulla, il cane è abituato a stare in giro, però il branco è sempre il branco, hanno pure il branco, perché ho visto che l'altra volta se mangiare un gatto sono divisi un pezzo ciascuno davanti a casa mia. I cani maletti parla che sono umani, però sempre c'è la paura, perché se spostano le cani, se mettono l'angolo dall'altra parte di qua, uno che passa, non lo so se rende l'idea. No, ma non c'è cani, se ne prendiamo un po' di fresco giustamente e vediamo sempre che sono sempre c'è. Il problema non è andato, però sempre la paura c'è, sempre c'è, non è che diciamo, sempre animali sono, non è che diciamo, che è inglesiano, non è che diciamo, non è assoluto.